Fatela entrare! Fatela entrare! Miriam! Vieni, siedi, siedi qui. Allora, ti farò alcune domande che potranno sembrarti strane, vorrei solo che tu rispondessi con sincerità. Come conosci, Mosè? Lo sai come conosco lui. Quindi non sei sua sorella? Ovviamente no. Metti il tuo braccio sopra il tavolo. Ramses! Non insistere con questa storia. Perché se insisto che cosa succede, invece? Non insistere con questa storia. Sei sicuro di volerlo fare? Leva da lì quella mano oppure usala. Adesso. Allora procedo. Miriam, ora te lo chiederò un'altra volta e se la tua risposta sarà ancora no, ti domando scusa per quello che succederà. Tu sei sua sorella. Non. Sì!